. GF Vip Luca Onestini apre le porte del suo cuore alla Mrazova VinZuiden Luca Onestini e Ivana Mrazova la conoscenza continua anche dopo l'avventura al Grande Fratello Vip. All'interno della casa del cancelletto Grande Fratello Vip sono sbocciate tante amicizie e una storia d'amore quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. . Molti telespettatori però erano incuriositi dal feeling che nelle ultime settimane aveva unito cancelletto Luca Onestini e cancelletto Ivana Mrazova che non hanno mai smentito un interesse reciproco, almeno dal punto di vista estetico. . 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 Sentire anche lui una canzone romantica chiamata Ragazza Paradiso, una coincidenza oppure no? Secondo il parere delle persone e del gossip no, tra i due sembra ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Luca e Ivana, messaggi a distanza sui social. Ivana Marazzova ha lasciato per qualche giorno l'Italia per raggiungere Praga, città in cui è nata, dove ha trascorso il Natale insieme alla sua famiglia. La bella modella ha potuto riabbracciare la sua piccola nipotina alla quale ha insegnato la canzone inventata da Luca Onestini e Raffaello Tonon all'interno della casa del grande fratello Vip2, batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita, il ritornello è stato ripreso per intero con un video. Anche Luca Onestini è rimasto attivo sui social dove ha svolto anche una diretta nella quale ha assistito anche Ivana Marazzova sciha commentato la prova dell'ex tronista con un emoticon dolcissima. Secondo voi tra Ivana Marazzova e Luca Onestini nascerà una bella storia d'amore? Siete liberi di esprimere la vostra impressione lasciando un commento nell'apposito spazio. Per rimanere aggiornati sull'altre news legate al mondo del gossip, video, e della tv vi invitiamo a cliccare il tasto segui visibile in sovrimpressione.